Mentre Marco Travaglio e Andrea Scanzi continuavano la loro ricerca di prove riguardo le apparizioni dei fantasmi di Berlusconi e Costanzo, un uomo sconosciuto si era mimetizzato tra la folla incredula durante la proiezione del documentario. Era Alessandro Di Battista, un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e loro conoscente. Dopo la proiezione, Di Battista si avvicinò a Travaglio e Scanzi. Posso unirmi a voi nella lotta contro i fantasmi? Chiese con determinazione. I due giornalisti furono soropresi di vederlo lì, ma erano grati per il sostegno inaspettato. Sei sicuro di volerlo fare? Chiese Travaglio. La nostra situazione è piuttosto complicata e pericolosa. Di Battista a noi. Sì, sono convinto. So che voi due siete giornalisti onesti e coraggiosi. E se dite che ci sono fantasmi, allora ci sono fantasmi. Scanzi lo osservò attentamente. Sei disposto a rischiare la tua reputazione per aiutarci? Di Battista sorrise. La mia reputazione non è più importante della verità e credo che voi due abbiate sicuro bisogno di aiuto in questa lotta. Con un nuovo alleato al loro fianco, Travaglio, Scanzi e di Battista decisero di unire le forze nella ricerca di prove conclusive sulle apparizioni dei fantasmi. Indagarono insieme, intervistando persone che avevano avuto avvistamenti simili e raccogliendo testimonianze da altre fonti. Man mano che procedevano nelle loro indagini, la storia si diffondeva sempre di più. La folla incredula che aveva incontrato durante la proiezione del documentario iniziò a diffondere la notizia delle apparizioni dei fantasmi. Le persone cominciarono ad interessarsi alla loro causa e offrirono il loro sostegno. Insieme, Travaglio, Scanzi e Di Battista organizzarono un evento pubblico in cui mostrarono le prove raccolte finora. Durante la presentazione, i fantasmi di Berlusconi e Costanzo fecero un'altra apparizione provocatoria, ma questa volta Travaglio, Scanzi e Di Battista erano pronti a reagire. Guardate, disse Di Battista puntando il dito verso i fantasmi, ecco le prove delle loro apparizioni. La folla guardò con stupore e ammirazione e stavolta non c'erano dubbi sulla loro autenticità. Le prove erano chiare e inequivocabili. Le notizie riguardo alle apparizioni dei fantasmi di Berlusconi e Costanzo si diffusero in tutto il paese e la situazione divenne sempre più difficile per la prima ministra Giorgia Meloni e le massime autorità di sicurezza dello Stato. La popolazione iniziò a chiedere spiegazioni riguardo alle azioni contro Travaglio e Scanzi e la pressione sul governo aumentò. Travaglio, Scanzi e Di Battista si prepararono per l'epilogo di questa strana e avvincente vicenda. Era giunto il momento di affrontare la verità dietro le apparizioni dei fantasmi e smascherare il complotto contro di loro. La storia delle apparizioni dei fantasmi di Berlusconi e Costanzo aveva catturato l'attenzione dell'intero paese. Ciò che all'inizio sembrava un bizzarro scherzo si stava trasformando in una rivelazione epocale. Marco Travaglio, Andrea Scanzi e Alessandro Di Battista avevano aperto gli occhi sulla presenza di queste misteriose apparizioni. Inizialmente Travaglio si era sentito solo, convinto di essere l'unico a vedere i fantasmi, ma con il passare del tempo il suo coraggio nell'affrontare la verità aveva ispirato Scanzi e tante altre persone. I fantasmi, simbolo della corruzione e del potere nel paese, erano diventati sempre più visibili. Il loro impatto era evidente, poiché molti cittadini iniziavano ad aprirsi alla possibilità di un'ombra oscura che dominava la politica e il potere. La verità era stata messa in bella mostra e la rivelazione delle apparizioni dei fantasmi aveva il potere di far aprire gli occhi a chiunque. La corruzione e il potere che una volta si nascondevano nell'ombra erano ora chiaramente visibili e tanti iniziarono a vedere la realtà sotto una nuova luce. Ma ciò che sorprendeva di più era la reazione della prima ministra Giorgia Meloni. Anche lei aveva visto i fantasmi e li aveva accolti nella sua vita pur essendo a conoscenza delle loro azioni oscure. Il potere e la corruzione sembravano non avere barriere e Meloni era diventata un'alleata inaspettata dei fantasmi. Era chiaro che vedere i fantasmi non significava automaticamente schierarsi dalla parte giusta. Alcune persone come Travaglio, Scanzi e Di Battista avevano scelto di lottare contro il male rappresentato dai fantasmi e di smascherare la corruzione. Altri, come Meloni, sembravano essersi lasciati sedurre dal potere e dalla possibilità di sfruttare i fantasmi a proprio vantaggio. La verità era che la corruzione e il potere erano sempre presenti e non erano legati a una specifica ideologia politica. La lotta per la giustizia e la trasparenza doveva essere costante e senza tregua, indipendentemente dal colore politico. Travaglio, Scanzi e Di Battista avevano aperto gli occhi di milioni di persone che li circondavano, dimostrando come una verità, anche se può sembrare assurda, può essere riconosciuta da chiunque sia disposto ad affrontarla. La loro battaglia contro i fantasmi di Berlusconi e Costanzo aveva ispirato il paese a prendere coscienza della corruzione e della manipolazione che avevano permeato la politica e il potere per troppo tempo. La verità era svelata e l'ombra dei fantasmi si stava ridimensionando di fronte alla luce della verità e della giustizia. Travaglio, Scanzi e Di Battista erano determinati a continuare la loro lotta, perché sapevano che solo attraverso la trasparenza e le coraggiose rivelazioni avrebbero potuto liberare il paese dall'influenza nefasta dei fantasmi. Questa prima stagione ha affrontato temi molto importanti come la corruzione, il potere e il valore della verità. Ha anche introdotto personaggi affascinanti e dinamiche intriganti tra di loro. Ora, con la prima stagione conclusa, si apre la strada per ulteriori sviluppi e avventure nella prossima stagione. Cosa riserverà il futuro per i nostri protagonisti? Riusciranno a sconfiggere completamente i fantasmi e far emergere la verità? Saranno ancora alleati o si scontreranno con nuovi nemici? Solo il tempo lo dirà. Grazie per aver seguito questa avventura e aspettiamo con ansia di continuare la storia nella prossima stagione.